Questo video potrebbe provocare numerosi effetti collaterali. Miosi, ipotermia con sodori freddi, convulsioni, diuresi ridotta, depressione della respirazione e dell'attività vasomotoria, nausea, vomito, disturbi del sonno, morte per avvelenamento, infarto. E' dunque consigliata la visione di un pubblico adulto. Grazie! Le uscite di sicurezza sono collocate là, lì, qui. Buona visione! Musique Musique Grazie a tutti 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 Grazie a tutti